Ciao a tutti, io sono Pierluigi Pintori, docente di Procreate per la Scuola Superiore d'Arte Applicata di Milano. Vi mostrerò in questo breve video come realizzare una foresta con l'utilizzo di un solo strumento. La funzione Rainforest di Procreate, come ricorda il nome, ci garantisce in pochi passi di realizzare una foresta, una foresta pluviale, dove il tratto dell'albero è accompagnata alla perfezione dalla condizione di umidità che appartiene a una certa atmosfera. Lavorando sui livelli, sui toni e sulle saturazioni è possibile, come potete notare, realizzare una foresta pluviale in pochi passi. Vi è venuta a Voglia di Procreate, vi aspettiamo sulla nostra pagina Facebook o sul sito. Ciao!